allora ragazzi adesso vi faccio vedere come vola un drone agli occhi della istra adesso è qui proviamo a farlo volare quello che vedono i nostri occhi nel display facciamo modalità video si parte e adesso lui è lassù via la registrazione di quello che vediamo noi sul display adesso sta viaggiando verso i cento metri non vedo più adesso la nostra telecamera il nostro display che aiuta a vedere il tutto andiamo verso villa durazzo siamo attitudine un po alta andiamo un po giù ci giriamo verso di là dove va lui ecco lì qua non riesco più a vederlo andiamo verso le spiagge attenzione ai gabbiane attenzione a tutto adesso si sta allontanando un tantino è impossibile vederlo fa tutto adesso il display sul cellulare adesso lo facciamo tornare indietro perché è oltre i quasi a 300 metri facciamo tornare indietro da noi questa è Santa Margherita vista dall'alto andiamo un po più in su ci allontaniamo e si lui ci avvisa che siamo già al limite ecco in questo momento la ista riprende quello che lui sta facendo che con l'occhio umano è impossibile adesso lo allontaniamo un po' ecco può bastare adesso facciamo un po' di foto stoppiamo facciamo una foto grandancolare che sono vari scatti non lo vedo più è quasi a 400 metri di distanza è a 107 di altezza ecco adesso farò altre foto ma per farvi capire quanto è bella la tecnologia in volo e a terra ciao ciao ciao